Non si tratta di un difetto tecnico della radio o della tv, ma di fastidiosi suoni che si generano nell'orecchio e nella testa di 2 milioni e mezzo di italiani. Gli acufeni. Fischi, ronzii che ti molestano in ogni momento della giornata e in grado di alterare la qualità di vita. L'AIRS è al tuo fianco per combatterli. Aiutaci a costruire il Centro Nazionale di Ricerca e Cura degli Acufeni e delle Patologie da Rumore. Dal 27 febbraio al 4 marzo 2012, dona 2 euro con SMS o da rete fissa al 45506. Un piccolo gesto per sostenere un grande progetto. AIRS Onlus. Vogliamo offrire un futuro alla ricerca sulla sordità.